E dunque ci spostiamo in zona podio sempre con gli assessori del comune di Rosa, assessore Gian Domenico Benzotto, assessore allo sport, Auro Frigeto, prima pregazione è quella del Cento Rana, ragazze femmine, terza è pronto per il Team Benetton, Sofia Abugiaro. E seconda è argento per la Fondazione Vettino di Mattalena Colla. E prima classificata è medaglia d'oro per lo stile livello 1-14-52, suo tempo Anita Ottazzo. presentiamo intanto la quarta serie femminile alla partezza del concetto di stiliatrice, 4-celli, 1-2-2-2-3-4 Giulia Grasso, 5-3-L, e 6-debora Bernardi, 7-1-2-3-4 Giulia Grasso, e la colla, ecco la tua, la colla in postazione per partire, è un ruolo per ritirare successivamente la sua medaglia, e poi Anna Dior masserà in lontana corsia. Ancora podio, proseguiamo, 100 Rana assolute, terza è bronzo per il Team Benetton, Serena, momento! Seconda classificata è argento per il piave vuoto, Mattilde Cerchier. E prima è vincitrice con il privato del Biting, 1-07-65 per la zona di Bologna, Martina Carrago. Intanto si conclude la quinta serie del 200 visti, 2-36-16 Jennifer Parolin, su Claudia Rossetto, 2-36-28. 2-36-16 Jennifer Parolin,